Io sono Matteo Viscarini, Presidente di AUSA Rosimo. Benissimo, perché abbiamo scelto i progetti partecipativi in questa situazione? Perché crediamo che sia necessario sviluppare altre sì, come si dice, la partecipazione popolare perché è l'elemento che caratterizza un po' questo progetto nostro sostanzialmente, perché vogliamo rendere più vivo questo quartiere con un impegno diretto dei cittadini. Perfetto, grazie, allora buon lavoro. Grazie.